Ciao a tutti ragazzi, negli ultimi giorni mi avete tempestato di messaggi. In tantissimi mi avete chiesto quando usciva la nuova collezione di monete della Zecca di Stato per il 2022. Finalmente abbiamo delle date. La collezione numismatica del 2022 sarà presentata in conferenza stampa domani 25 gennaio. Il 27 gennaio, alle ore 15, ci sarà la possibilità di scoprire la collezione in un video di presentazione che sarà pubblicato direttamente dal Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano. Infine la notizia che aspettano tutti. Le monete si potranno acquistare a partire da Martedì, primo febbraio, alle ore 11. Se non sai come comprare direttamente dalla Zecca, ti invito a consultare il link in descrizione dove ti lascerò un video che ho registrato un po' di tempo fa dove ti spiego passo dopo passo come comprare dalla Zecca di Stato Italiana. Un saluto a tutti, ciao!